Campionato italiano online 2022-2023, gioco con Osvaldo De Massimi. Ok, si parte. 6-4, non ricordo esattamente. 4-3, direi che a questo punto scendiamo. 5-2, direi che a questo punto scendiamo. 5-2, direi che a questo punto scendiamo. 5-2, direi che a questo punto scendiamo. 5-3, direi che a questo punto scendiamo. Danzo, maledizione. Questo è un cubo sicuro, ed è anche un drop. Doppio 5, è ottimo. Qui devo colpire sicuramente. Devo fare casa 3 o venire avanti. Io vengo avanti. Devo sperare che non mi colpisce. Mi colpisce. 3-4. Colpire mi sembra un po' troppo. Devo giocare un mossa prudente. Di nuovo qui ha un double molto forte. 25 pip di ritardo. Per me questo è un drop. 1-0 per lui. Avevo 3 piedine indietro contro una sola. 6-5. Direi che devo giocare questa. Doppio 6 per lui. Fa l'ottima casa 5 e casa 7. 4-1. Adesso colpisco o faccio casa 5. Casa 5 è sicuramente ottima. Sì, preferisco fare casa 5. 3-6. Maledizione. Scappa. Ottima mossa. A questo punto direi che devo colpire. Doppio 1. Fa casa 4. Ma no, non può fare casa 4 per fortuna. Sì, è sicuramente ottima. Come deve fare casa 23. Questo potrebbe essere un double. però non mi piace tantissimo. 6-5. Posso fare casa 1. Ma preferisco giocare questa. Ok. Questo potrebbe essere un double però. Sì, il double ci sta. Forse è un po' rischioso. Lui passa 1 a 1. Ho pensato un minuto e mezzo. Non è poco. Devo essere un po' più veloce. Hai a doppio 6 per lui. 13 pip di vantaggio. Giochiamo questa. Aia, 3-2 mi fa casa in testa. Danzo, maledizione. Questo è un double. 14 pip di vantaggio. 14 pip di vantaggio. Take è un po' rischioso. No, io passo. 2-1 per lui. Ho pensato 2 minuti. Devo giocare più veloce. 5 pip di vantaggio. Portato in salvo una pedina. Fatto casa 4. Ho un buon vantaggio. Resto però per cubare. Direi questa e questa. Doppio 2. Direi questa e questa. 3-2, maledizione. Colpisce e fa casa 1. 4-3. No, casa in testa. 3-4 direi che è questa. File bar point. 6-5. Questa è molto buona. Scappo. 9 pip di vantaggio. Doppio 5. Va in vantaggio in corsa. Quindi devo assolutamente cercare di contenere la sua pedina. 6-2 non è un bel tiro. Giochiamo questa. Non la casa troppo forte per rischiare. 11 pip di vantaggio per lui. Doppio 6 è ottimo. Allora, questo 4 pip di vantaggio, però è troppo buona la posizione. Direi che cubiamo. Non penso che sia too good. Poteva anche essere too good, però. 2 pari. Ci avrei dovuto pensare un po' di più. Allora, 5-4. Direi che devo colpire. 5-4. Per fortuna non mi ricolpisce. 5-1. Non è un gran tiro. Devo fare casa 3. 6-5. 13-8. 13-7. Questa non mi sembra molto costruttiva. 3-2. Secondo me devo fare casa 5. Oppure casa 8. Io preferisco casa 5. Mi colpisce, però, rischia, rischia parecchio. Potrebbe coprire casa 2 e far giocare 24-23. Questa non mi sembra granché. Allora, il 6 è sicuro e qui devo splittare. Doppio 6. 1-2. Sicuro. E direi che devo giocare questa. 6-1. Scappa. No, non ha provato a scappare. Qui potrebbe essere un cubo. però non mi convince tantissimo. 6-4. Devo scappare. Mi colpisce. Maledizione. 5-1. Posso rimanere indietro. Mi sembra troppo pericoloso. Tocchiamo questa. Doppio 6. Doppio 6. Questo può essere un cubo. Direi di sì. con un po' indietro in corsa ma lui ha le pedine bloccate indietro. Ok. Ho pensato 2 minuti e mezzo. Devo cercare di essere un po' più veloce. Doppio 3. Maledizione. Casa 21 e casa 10. Ok. 6-1. Doppio 6. Qua si avvicina il cubo. Potrebbe anche essere 2-good. 1-6. 3-2. ha 25 pip di vantaggio. Però questo è ancora un take perché se non colpisce direi di sì. Take. Doppio 1. Fa un prime da 5. Molto forte. 6-4. Qui il 6 è sicuro. 4-13-9. Mi sembra pericoloso. Dobbiamo giocare questa. Farei casa 3. Servirebbe un 6-2. No. 6-1. Scappare la vedo un po' troppo rischiosa. E anche splittare. ho il cubo a 2 in mano. Sì, mi sembra la migliore. Giocare dall'8. Questa è un po' troppo rigida. 5-1. Direi che facciamo casa 1. 5-4. Non è un bel tiro. Mi serve un 1. No, doppio 5. Potrei fare casa 3. E poi casa 2. O casa 8. direi casa 2. Non è così sicuro. Sì, mi piace questa. 6-3. Ha coperto. Sì, qui rischia, ma sicuramente non posso cubare. questo non è un bel tiro. e qui, secondo me, devo rischiare aia, tira il 3. Però se tiro un 1 posso vincere il game. Deve assolutamente colpire. Niente 1. Qui rischio fortemente il gammon. Chiude casa. colpisce la seconda pedina. Qui le possibilità di gammon sono intorno al 70%. va a tirare subito un 6. Niente 6. Nesco con un 5. Doppio 4. Maledizione. Il gammon è inevitabile. accontentiamoci di evitare il backgammon. Niente da fare. 6-3 per lui. Ho pensato 3 minuti e mezzo. Deve fare casa 2. 3-2. 6-1. Direi questa. avrei colpito sul 4. Allora, direi 4 e 2. potrei anche prendere dal 13. se mi sembra meglio. Questo direi che è un double. potrebbe anche essere too good. Potrebbe anche essere too good. tiriamo. 4-1. Colpisco. Aia mi ricolpisce. A questo punto direi che è un double. con molti gammon. Un avanti in corsa di 13. Casa più forte. Passa. 6-4 per lui. mi ricolpisce. Manezione. 5-3. Dobbiamo fare casa. 5-3. Posso fare casa 3. O giocare questa. Mi piace di più. Aia fa il goal. Il punto 5. Ci ancoriamo. Fa anche il bar point. 5-4. Direi che devo scendere. 6-2. Non è un gran tiro. direi 6. E 2. E slottare mi sembra troppo. La corsa è all'incirca pari. colpisco 4-2 casa in testa sono in vantaggio in corsa ho una buona struttura però le due pedine indietro mi impediscono assolutamente di cubare 4-2 qui devo fare casa non mi era accorto che facevo casa e qui secondo me è presto per cubare qui devo provare a scappare danza qui a questo punto il cubo ci sta ho pensato 5 minuti quasi 6-5 per lui aia mi colpisce devo sperare di ancorarmi ricolpisco la corsa è all'incirca pari la mia struttura è migliore anche se ho tre pedine indietro contro due è una struttura molto rigida 6-1 e mo' io giocherei questa e questa fa casa 5 accidenti 3-1 devo fare casa 5 la corsa 5 è importante molto rischioso il tiro mi colpisce maledizione 1-5 ricolpisco danza casa 4 importante qui ho troppe pedine indietro per cubare 4-1 4-1 rientra con 4 probabilmente deve colpire sul 2 questo potrebbe essere un double ma mi sembra prematuro 4-1 colpisco 2-1 2-1 potrei allora 1 è sicuramente questo col 2 potrei colpire sull'1 o venire avanti veniamo avanti 3-1 mi colpisce accidenti 4-2 diciamo che questa volta colpirei danza troppe pedine indietro per cubare però rischio di perdere il mercato secondo me il cubo ci sta accetta accetta spero che non tiri un 1 ok doppio 4 copriamo casa 1 e direi che vengo avanti 4-1 continuo a danzare 3-2 6-2 direi questa aia tira un 2 doppio 5 4-1 4-1 3-1 ok aia rientra dovrei avere comunque parecchi gammon ok 4-3 2 off diciamo che se non mi colpisce dovrebbe essere gammon 1 2 3 4 1 2 1 2 3 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 8 6 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 12 Mossa è praticamente obbligata adesso rischio di scoprire mi serve un 3 o un 1 tiro l'1 e il 3 quindi il 3 è questo e l'1 direi questo nooo ha missato però rischio di scoprire ancora 5 e 2 e infatti scopro però per fortuna non tira l'1 direi che a questo punto è Gremon sì, Gremon matematico diamo 9,6 ho pensato 6 minuti 6 minuti e 10 3,2 non sono avanti in corsa devo colpire per fortuna non mi ricolpisce 5,3 ok diciamo l'importante casa 5 fa casa 9 3 pip di vantaggio ho solo una pedina indietro facciamo casa aia fa casa 5 adesso la struttura sua è migliore ma io ho solo una pedina indietro 3 è 1 aia fa anche casa 4 forse avrei dovuto giocare 24 23 6,5 è ottima devo scappare adesso sono 4 away 4 pip di vantaggio questo potrebbe essere un cubo sì, secondo me questo è un cubo la struttura è molto buona lui ha i glued back checkers ok 3 away rimangono 6 minuti e mezzo mi colpisce accidenti ricolpisco colpisce ancora però continua a colpire aia doppio 1 è un buon tiro assolutamente adesso deve fare casa 5 non c'è dubbio e qui devo slottare casa 5 o colpire sul 2 come me devo slottare casa 5 colpire sul 2 non mi piace non mi colpisce grandioso 3 e 2 devo venire avanti aia mi fa casa in testa però colpisco posso colpire sul 18 o sul 17 io colpisco qui deve colpire sul 1 2 e 5 non è un granché allora posso provare a scappare o andare sulla casa 8 andiamo sull'8 4-1 iniezione colpisce e fa casa allora qui dobbiamo giocare questa e mettere in salvo la pedina adesso lui ha 5 pedine indietro 6-5 non scappo probabilmente devo giocare questa mi colpisce maledizione danzo 5 minuti e mezzo rimasti non sono tanti continuo a danzare qui potrebbe cubare danzo ancora rientro per fortuna 6-3 mi colpisce 11-2 però rientro e provo a scappare non mi colpisce 5-2 non è oltretutto un tiro bellissimo e beh poi dove giocare 8-3 5-2 e direi che faccio casa in testa doppio 2 qui sono avanti in corsa non di tantissimo quindi 2 pip 6-4 è un ottimo tiro anche per lui 6-2 è un ottimo tiro 4 pip di vantaggio 5-1 questa questa la corsa è all'incirca pari forse avrei dovuto non scoprire tutte queste pedine in modo da avere la possibilità di di colpire qui dobbiamo giocare questa e questa questa mi sembra molto rischiosa una pip di vantaggio in corsa per me però anche rimanere indietro è molto rischioso doppio 2 mi sembra ottimo no doppio 3 per lui scappa ma sarei scappato anche con le le ultime due pedine e qui io entrerei corsa all'incirca pari doppio 5 eccezionale questo secondo me è un double troppo il vantaggio in corsa ho già due pedine fuori ok siamo 2 away 7 away 5 minuti aia colpisce le due pedine mi serve un 1 niente 1 aia colpisce fa casa 1 mi si avvicina il cubo 2-1 casa 5 in testa danzo questo è un cubo secondo me deve colpire e giocare 24 22 doppio 4 non è male vi devo colpire colpisco adesso sono in vantaggio in corsa mi servirebbe l'ancora l'ancora arriva no doppio 6 adesso va nettamente in vantaggio in corsa avrei giocato 15-9 qui poi ha problemi a portare avanti le pedine sì questa mi sembra meglio 10 pip di vantaggio per lui 5-2 posso fare casa 4 o giocare 8-1 io farei casa 4 sperando che non mi tiri il 6 tira un doppio 1 che è ottimo che è ottimo perché gli permette di portare le pedine sul mid e quindi poter venire avanti avanti di 7 in corsa e i 4 e qui devo colpire fare casa 2 non capisco 6 e 4 aia mi ha ricolpito 3 e 6 qui devo scappare non tira il 4 per fortuna 5-3 casa in testa rientra però la corsa è abbastanza equilibrata 6-2 scappare non è pensabile dobbiamo giocare questa doppio 5 mi sembra ottima adesso sono in vantaggio in corsa no doppio 6 adesso va lui in vantaggio in corsa ma ha lo straggler da portare in salvo doppio 1 1 2 e direi 3 e 4 danza no cubare direi che non ha senso 4-3 se scendo mi espongo al 5 4 e 5 5 però è la scelta migliore 6-4 danza questo potrebbe anche essere un cubo no giochiamo per il gammon ai a6-3 non faccio casa 6-4 tiro pessimo C'è 4 però direi che a questo punto devo cubare 3 minuti soltanto Crawford non mi preoccupano i gammon 4-2 colpisco e vengo avanti aia doppio 1 maledizione 4-3 fa a casa in testa colpisce l'altra pedina devo ancorarmi direi che colpisce sulla casa 4 qui non ho il timing per il backgame quindi devo colpire prime da 5 molto forte si ancora doppio 6 questo non è male qui devo tirare un 1 il più presto 5-3 colpisco qui mi serve assolutamente l'1 5-4 devo colpire e qui rischiamo sì devo rischiare danza servirebbe il 6 aia doppio 2 qui può switchare però col 4 sarei in pole position per uscire tiro il 4 2-1 mi colpisce no danzo maledizione copre serve l'1 subito 5-2 5-2 esce con l'altra pedina io continuo a danzare doppio 4 ma colpisce la mia seconda pedina io avrei chiuso casa 1 però la chiude questo è un gammon per cui andiamo sul 12-8 3 minuti e 10 non sono tanti 3 minuti e 10 4-3 non è un bel tiro rientro con una no doppio 3 doppio 5 aia doppio 2 doppio 3 serve un doppio ho evitato il gammon per quello che può servire questo è un free drop ma dopo questo devo accettare doppio 5 questo è anche gammonish però doppio 2 è ottimo 3 minuti a casa 5 doppio 1 è molto buono è molto buono doppio 3 direi che facciamo il bar point 5-3 5-3 6-1 può provare a scappare doppio 6 doppio 6 mi sembra eccezionale adesso devo giocare con attenzione sono in nettissimo vantaggio allora direi che prime da 6 3 minuti 3 minuti altro doppio 6 altro doppio 6 è obbligata me l'ha fatta direttamente lui qui sto rischiando non devo tirare un 6 né un 1 doppio 6 lui doppio 5 chiude la quinta casa 5-2 direi che è ottimo qui deve scappare doppio 6 4 fuori 5 e 3 posso tirar fuori un'altra pedina oppure giocare 4-1 doppio 6 deve scappare haia doppio 4 però direi che a meno di sequenze particolarmente sfortunate il match dovrebbe essere vinto 1-2-3-4 ok non è ancora matematico vinto ok giocato 4-26 non è male insomma allora non è male è male sono ecco ecco